Io faccio sempre un certo tipo di film, quando parlavo di donne, le donne sono le protagoniste dei miei film, quasi tutti i miei film, la protagonista è una donna. Questo lo devo un'altra persona dalla mia famiglia, la mia madre, perché mia madre era una molto famosa fotografa specializzata in film delle femminili. E quando ero scelto andavo a scuola vicinissimo a dove ero uno studio, finita la scuola verso le quattro andavo da lei facendo i miei compiti e poi tornavo a casa insieme. E quindi ho passato per anni a vedere le più belle autrici del mondo, la loro cardinale, insomma, donne, una bellezza sconvolgente. E lì a struccarmi, a parlare, poi vedevo lei, mia madre, che metteva la luce su queste figure, la imprendeva in un certo modo. E questo mi ha rimasto dentro, perché poi quando ho cominciato a fare il film ho scoperto che ero più bravo a rappresentare le film delle femminili. Non a caso ho fatto cinque film con mia figlia a Asia, da quando ero autista che da quando aveva 13 anni, l'ho seguita a crescere, è diventata più grande, più grande, più donne. E quindi è stato... Poi ho anche altri ragazzi, anzi bambini quasi, c'era Jennifer Connelly nel mio film, su Spir... Fenomeno. Insomma, tutte ragazze molto giovani e ogni volta io ricordavo come mia madre metteva le luci sulle donne. E quindi, diciamo, l'ottanta per cento dei miei film è proprio viste su donne, perché mi trovo più a mio agio, quando mi sento... L'uomo è più rigido, è più rigido, è più difficile da ammarcamare in un progetto. Invece, la donna è più... da più se stessa, è molto... di più generosa. Quindi, io mi sono... questa è stata la storia del mio lavoro come donne. Il tuo modo di fare cinema è cambiato? No, non è cambiato. No, perché io mi sfido alla mia... la mia profondità, la mia... è più difficile da fare cinema. Io sono coscio, fruidiano, appunto, afrogo, e quindi non ho bisogno di cambiare. Io... il mio coscio è quello... la mia parte oscura è quella... io... è quella che guardo, è quella che io... che io... studio. Questo... non a caso, i miei film sono... questi anni... così... diciamo, non limitati, ma insomma, abbastanza ispirati ai... appunto dai miei film... in... 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 in Stregoliette... in... 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 sul Corea e anche... in... nel Giappone... in... 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 in Естьico, cioè c'è... c'è mio amico... Muglielmo del Toro è un mio grande estimatore, c'è qua Robo che è anche un estimatore qui, anche in Argentina sono molto interessanti i film di oggi, tutti si ispirano a un minucino, ma io non devo cambiare.